Fantastica, sì sono convinto che sia stata, almeno credo sia stata una partita stupenda considerando che abbiamo giocato tutte e due le squadre, sette, otto partite in tre giorni con un caldo torrido noi siamo meno abituati di voi sicuramente a queste temperature e onestamente non pensavo potesse venire fuori una partita comunque così movimentata, così bella secondo me io ai miei ragazzi ho fatto grandissimi complimenti perché credo che abbiamo dimostrato di essere in grado di poter competere con tutte le migliori squadre che ci sono state in questo torneo fantastico, eccezionale, siamo venuti l'anno scorso onorandolo, siamo venuti quest'anno facendo altrettanto e sicuramente faremo lo stesso anche il prossimo